in quello che forse è storicamente il peggior momento calcistico del capologo ionico abbiamo scelto di scendere in piazza per chiedere alle persone per chiedere ai tifosi in quello che è un quartiere popolare cuore pulsante del tifo rosso blu il quartiere tamburi quella che può essere la ricetta per risollevare quelle che sono le sorti del calcio tarantino a loro la parola che cosa ne pensa della stagione del taranto calcio alla luce di quelli che sono gli ultimi risultati penso che secondo me il calcio va a pari passo con la città è solo una delusione ormai è diventata una delusione per anzi forse abbiamo fatto gli anticorpi a tutto quello che accade in questi anni qui ci sono diverse voci insomma che si susseguono su possibile cambio societario secondo lei cosa è giusto fare quindi avvallare le eventuali cordate le eventuali persone che si affacciano per rilevare il taranto seppure massimo giove deve continuare per la sua strada ma guarda secondo me la il cambio società può essere solo cioè se non lo vedo molto una cosa concreta cambio società secondo me è proprio a livello di calciatori qua arrivano a taranto e si sentono tutti arrivati tutti i professionisti come si fanno alla serie a invece non si rendono conto che è una serie di panarelli a colpe oppure si è lasciato trascinare in questa situazione a me panarelli è piaciuto già dalla volta quando è venuto a taranto purtroppo si è trovato anche lui in un momento difficile sta pagando le conseguenze crisi societaria del taranto secondo lei è giusto che giove resti al timone del taranto calcio seppure è necessario un cambio a livello societario i cambi sono necessari se giove non resette il cervello e mette in atto qualcosa di nuovo innovativo perché quello che ha già fatto è fallimentare secondo lei cosa non ha funzionato solo un problema societario anche a livello insomma di campo la squadra non ha reso secondo quelle che erano le aspettative come ha detto l'amico prima rispecchia benissimo la la città la squadra quindi di conseguenza chi vive in un ambiente malsano gioca male non rende quindi bisognerebbe proprio a monte giustificare e aggiustare la situazione le colpe di chi sono dei giocatori dell'allenatore della società io penso che la società che traballa da qualche parte perché non non lo seguo molto però da questo successo quell'incidente là che caricarne i calciatori nel campo da tanto il taranto appicchia dopo sotto qui si dovrebbe vedere un po la società del taranto e sperare in bene soprattutto perché la squadra ci sta solamente che devono imparare un tiro perché c'è in bordo è un po' difficile grazie a tutti